Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial e in questo nuovo video ti spiego come applicare dei buoni server DNS sulla tua propria rete e quindi in questo caso ho una fornitura di DNS quello primario e secondario che potete trovare in descrizione quindi in questo caso per applicare questi server DNS tanto per incrementare un po' la velocità dei download oppure incrementare così la velocità nella navigazione su internet per applicare questi server DNS basta che vai su impostazioni rete e internet impostazioni di rete avanzate scendi fino a giù fino a trovare più opzioni per la scheda di rete dovresti trovare questa scheda di rete in questo caso questo era un settaggio attraverso Windows 11 però se andate sul pannello di controllo rete e internet quindi in questo caso tu basta che vai su visualizza attività e salute della rete modifica impostazioni scheda e ti aprirà così questa scheda tu clicchi sul tuo servizio internet quindi in questo caso io sto usando ethernet questa è la mia connessione tasto destra sopra proprietà vai su protocollo internet versione 4 tcp ipv4 e qui ci potrai mettere i tuoi server DNS quindi da ottieni indirizzi server DNS e metti l'utilizzo seguente indirizzi server DNS e ce li metti qua sopra quindi apro così la fornitura di server DNS per esempio come puoi vedere io ho messo quello del cloud flare dicono che è quello ottimo però quello ancora meglio quello di google quindi io adesso metto 8888 8884 4 e fai ok e chiudi tutto e hai concluso qua così facendo applicherai così dei server DNS sulla tua rete se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao